La fondazione comunitaria del VCO si conferma con grandi cifre nel territorio. Quanto è stato erogato nel corso del 2017? Nel 2017 abbiamo erogato circa 700.000 euro con i bandi normali, tramite i fondi e con altre erogazioni a cui vanno aggiunti 275.000 euro dei cosiddetti emblematici provinciali. Quindi per un totale di circa 1 milione di euro che vanno a contribuire e aiutare circa 125 progetti. E adesso ce ne sono di progetti 4 per il bando socioassistenziale. Sì, abbiamo appena approvato la prima sessione del bando per l'assistenza sociale, la seconda scadrà il 31 ottobre di quest'anno. Abbiamo approvato 4 progetti con un contributo totale di 42.000 euro. Si tratta di 4 progetti che si rivolgono alla popolazione carceraria, che si rivolgono al mondo della disabilità, che si rivolgono ai ragazzi in difficoltà. Quindi progetti di grande incidenza sociale che siamo ben contenti di sostenere. 109.000 euro invece per 19 progetti del bando educazione e formazione. Sì, qui il budget era di 100.000 euro, però i progetti erano belli e non volevamo penalizzarli più di tanto. E quindi abbiamo deciso di aggiungere 9.000 euro a questo budget. E abbiamo dato quindi una mano a dei progetti, anche qui molto interessanti, che riguardano ad esempio i giovani studenti che potranno fare un'esperienza interessante in Europa, che riguardano ad esempio il mantenimento di antiche tradizioni locali nelle nostre scuole. Insomma, anche qui 19 iniziative di altre tante organizzazioni che siamo ben contenti di sostenere. Quello che vorremmo è poter fare sempre di più, ma per poter fare sempre di più abbiamo bisogno che la provincia, che il nostro territorio ci aiuti sempre di più, perché noi siamo una fondazione di comunità che dà ciò che raccoglie.